e con padre Ernesto della Corte facciamo sempre un viaggio nella macchina del tempo ci riporta indietro ai tempi di Gesù ben trovato padre Ernesto buona Pasqua della settimana buona Pasqua della settimana vorrei dire però che ogni domenica quando la chiesa proclama il Vangelo noi siamo per forza dello Spirito Santo diventiamo coevi di Gesù il Vangelo non è una pagina del passato è una pagina sempre aperto sulla storia è una parola che continuamente parla gorgoglia tra cima quindi quando noi ascoltiamo il Vangelo ecco perché siamo in piedi siamo davanti al risorto risorgiamo anche noi quindi è una pagina non di duemila anni fa ma oggi Gesù dice a noi ecco è la parola del Signore che viene rivolta alla comunità dobbiamo sempre ricordarci davanti al testo la tua affermazione mi permette di fare questa annotazione davanti al testo noi non siamo solo a interpretare un testo ma dobbiamo ricordarci che noi siamo nel testo quindi alla fine della proclamazione o di Elia noi dovremmo chiederci di quei personaggi che ci ha descritto il Vangelo io in quale di questi personaggi mi leggo perché è così che poi il Vangelo diventa parola di vita cioè parola che dona vita oggi dove ci troviamo domenica scorsa vi ricordate abbiamo lasciato Gesù con questo scriba che è rimasto contento tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno osava più interrogarlo questa volta però è Gesù che nel tempio inizia a insegnare e mette in difficoltà le guide religiose perché quando gli cita un famoso salmo come mai dice quel salmo che il Messia è figlio di Davide se il Messia come fa a essere figlio di Davide come mai allora se è figlio di Davide Davide lo chiama Signore è una domanda davvero che spiazza gli ascoltatori perché effettivamente è così e Gesù mette in discussione per far capire che l'autorità del Messia come Signore non si basa solo sulla figlio di Davide lui è il figlio di Dio ha una parola che viene da Dio stesso non porta il regno di Davide ma è il regno di Dio e la folla ascolta questa contestazione molto forte di Gesù direi una notazione teologica esegetica molto forte il quale poi non risponde agli attacchi che ha ricevuto ha ricevuto prima Gesù invita a stare alla larga badate bene dice così state lontano da questi scrivi che vivono solo di apparenza camminano con le lunghe vesti le fanno frusciare chiedono i saluti nelle piazze i primi posti nelle sinagove nei banchetti spesso Papa Francesco dice gli arrampicatori e spesso sono un po così anche loro non solo arrivano a non difendere le vedove che sono una delle categorie protette ma addirittura esigevano illeciti prestazioni sessuali a loro vantaggio le sfruttavano anche economicamente mettevano in moto una sorta di sceneggiata facendo lunghe preghiere per attirare queste povere vedove che poi le scambiavano per uomini retti e gli affidavano tutti i propri beni e questi ne approfittavano in un certo senso siamo davanti a delle categorie che ostentano un'apparenza disgustosa poi nel privato depredano violentano dominano sono in un certo senso la figura che Gesù vuole farci vedere di quelli che sono al contrario dei discepoli sono degli anti discepoli qui è un ritratto preciso che Gesù ci fa un ritratto di ieri un ritratto di oggi sono persone che si vogliono imporre sul piano sociale vogliono i primi posti si vogliono imporre sul piano religioso si siede nei primi posti nella sinagoga anche su quello politico sociale vogliono essere ossequiati sulle piazze come fanno i mafiosi e i camorristi ma anche sul piano orale religioso sfruttano economicamente le vedove e spesso le violentano anche sessualmente è un ritratto davvero a fosche tinte no per un verso vogliono apparire ostentano pubblicamente per l'altro agiscono in un modo occulto sono persone che dicono ma non fanno direbbe il vangelo abbiamo oggi il ritratto di chi è il vero anti discepolo e in queste persone forse possiamo riconoscerci anche noi Gesù invece ci ha chiesto di metterci all'ultimo posto dopo questo quadro la seconda scena Gesù si mette a sedere di fronte alla cassa del tesoro quello che si chiamava una volta il gazofilaccio la custodia del tesoro era una stanza dove venivano contenuti tutte le offerte e c'era questa sorta di di attrezzo fatto di legno dove si mettevano dentro le offerte erano posti nel tempio sul latte settentrionale nel cortile delle donne erano come a forma di tromba avevano delle scritte secondo le varie offerte che si depositavano Gesù dice Marco messosi a sedere osservava e usa un verbo molto forte teorein un verbo che indica attenzione riflessione a un certo punto arriva una povera vedova persona debole persona al rischio che non ha motivi per voler apparire come se Gesù volesse far vedere il controaltare da altre persone che sono istruite uomini di legge ma che vivono non vivono secondo quello che predicano dall'altra parte la persona più semplice uno dei poveri in israele che non vuole apparire che ha solo dio in cui confidare e infatti è arrivato al tempio proprio per affidarsi al signore e che cosa fa un po come la vedova di zarepta nell'antico testamento lei dimostra una generosità enorme perché come fa notare Gesù in Marco 12 44 depone tutto quanto aveva e il testo greco dice tutta la sua vita usa proprio il termine bios in greco non si parla solo di bene non ha dato solo le monete quelle monete esprimono tutto quanto aveva cioè tutta la sua vita la vita stessa questa donna ha dato tutta la propria esistenza è veramente interessante in israeli in genere è tradizione che non bisognava mai offrire più di un quinto perché bisognava mettere non bisognava mettere a rischio la propria vita invece qui Gesù ci descrive una donna che non conosciamo non sappiamo il nome è una vedova e questa gestualità viene premiata Gesù dice questa donna ha dato più di tutti perché ha dato la propria vita ha offerto tutta la sua vita e l'entrata di questa vedova in scena fa da contraltare agli scrivi e farisei che abbiamo visto da una parte persone che pensano al loro profitto dall'altra parte una vedova generosa una donna piena d'amore una donna che esprime la sua fede dando tutta la sua vita lei appartiene proprio a quelle povere persone che hanno accettato il messaggio messianico a quelle persone che hanno fatto festa quando Gesù entrato a gerusalemme e notate all'inizio del ministero di Gesù c'è una donna la famosa socia di pietra nel nell'attività a gerusalemme c'è un'altra donna una vedova più avanti troveremo a casa di simone una donna anonima che lo ungerà per la passione queste donne che scandiscono il ministero di Gesù è stata una delle rivoluzioni di Gesù mettere la donna al centro mettere l'ammalato mettere il povero ed è l'ultima volta che Gesù entra nel tempio ormai è imminente la sua passione d'amore Gesù non cerca la felicità che può essere sempre egoistica ma cerca il senso della vita e della morte quello che dicevamo nel giorno di dei santi e lui che ha dato l'essenza della legge allo scriba e ha fatto vedere in questa povera vedova quanto sia l'amore che davvero testimonia la nostra fede ancora una volta ci porta entrare nel pieno e nel profondo di un cammino di piena umanizzazione e allora abbiamo due modelli di fronte il modello dell'antidiscepolo persone egoiste anche se sono persone di di studio religioso una persona semplice che ha donato tutta la sua vita una vera donna una vera credente un modello di umanizzazione che oggi il vangelo ci dà e dobbiamo diventare un po tutti come lei invece che come i discepoli in quell'occasione padre ernesto io farò penitenza per un mese per quello che ho detto all'inizio però quando si sbaglia poi si afferra meglio il concetto ma è una cosa bella perché tante volte vedi grazie allo spirito santo io credo che lo spirito ci aiuti tanto lo invochiamo prima della nostra trasmissione non siamo qua a fare gli esperti siamo dei credenti che si affidano alla forza dello spirito a volte le tue affermazioni mi permettono di dire delle cose davvero molto importanti come è stato anche domenica scorsa non l'abbiamo preparato questo lo devono sapere le persone ma veramente è la bellezza di un cammino che prima di far fare agli altri noi lo facciamo lo fai tu lo fa vito in regia lo faccio io mentre parlo e posso testimoniare oggi davvero alla presenza di dio che questa esperienza che noi facciamo ci umanizza questa parola ci resta nel cuore e anche noi quando abbiamo chiuso la trasmissione quel verbo agga che io vi ricordavo nel giorno dei santi mormora nel nostro cuore ci resta questa parola e come quando hai bevuto dell'acqua fresca ti resta quel senso di frescura in tutta la persona veramente la parola è parola che genera vita e questo l'augurio che oggi vorrei fare a tutti quanti noi grazie a te padre ernesto grazie di cuore come sempre ci ritroviamo la prossima settimana grazie a te grazie a vita ai nostri tecnici è un saluto di vera shalom a tutti quante le amiche e gli amici che ci seguono pregate per noi e soprattutto ricordiamo a padre pio di starci sempre vicino lui che è il nostro angelo progettore shalom e buona pasqua della settimana shalom grazie a tutti